Ma quello che sto per dirvi è, diciamo, è roba che vi cambia la vita, ok? E qualsiasi obiettivo non lo raggiungete se non ascoltate le mie parole, se non riflettete su queste parole. E ripeto, nel mio progetto AgriCoach queste tematiche sarebbero state introdotte successivamente, ma io credo che voi siate abbastanza maturi, quindi lo ripeto un'altra volta, vi prego di darmi dei feedback, feedback significa un riscontro, ok, di dirmi se questa roba vi piace, sapendo che è indispensabile, quindi se non vi piace ve la dovete far piacere, però io la prima volta che ho sentito parlare di queste cose sono rimasto a bocca aperta, ho capito, mi è passata tutta la vita davanti, ho capito delle cose fondamentali, ok? Quindi spero, spero che questa cosa succeda anche a voi e vi prego di dirvi se capite bene, se ci state dentro, se vi piace, ok? Perché quando io parlo di prati, tutti quanti vengono a vedere i prati e si divertono. Lino Vallone, ciao! Quando parlo di cose un po' così, a volte ho usato, diciamo, ho parlato di queste tematiche con dei titoli, sapete che il titolo è fondamentale per richiamare la gente, così come la luminosità del video, infatti oggi ho aumentato la luminosità, e quindi però io ritengo che voi siete maturi per iniziare a parlare di concetti di mindset, ok? Quindi di mentalità, ok? Mindset è una parola, diciamo, che ultimamente è straabusata nel mondo del marketing e riguarda appunto la nostra mentalità, ok? Quindi l'approccio mentale con la quale voi affrontate la vostra vita quotidiana, ok? Perché faccio questo discorso, ok? Quindi imparate questa parola, il mindset, ok? Io voglio che da domani, dopodomani, iniziate a parlare con i vostri colleghi di mindset, ok? Perché è una tematica fondamentale, tutto parte da qua, ok? Se noi non siamo a posto qui, ok? Tutto è pregiudicato e vi farò vari esempi, ok? Che voi comunque riscontrerete nella vostra vita quotidiana. Vediamo se c'è qualche commento. Ecco, commenti... Non mi viene un commento. Gloria Andoci, ciao. Sandra, a breve vedrai che bomba sto per lanciare il settore giardinaggio. Ma tu devi vedere la bomba che sto lanciando io, Marco Fantone. Marci come condomini, dice Eduardo Salsa. Allora, perché faccio questo discorso? È una diretta non programmata. Io ho un piano editoriale, quindi ogni settimana so ogni giorno che cosa devo dire. Quindi ho già programmato. Perché ovviamente le mie parole non sono vane, non è fiato che viene fuori così casualmente. Le mie dirette sono finalizzate per portarvi verso un obiettivo, ok? Oggi è un po' extra obiettivo. Perché l'obiettivo è un altro e lo sveleremo tra qualche giorno. Nasce dal fatto che ero in agisteria, che è la mia catena di ristorazione. E c'era un signore molto simpatico di Trapani, che si trova qui di passaggio perché era a trovare il figlio. E mi raccontava che fa il commerciale di tonno, di bottarga. Dovete sapere che Trapani è un po' la patria del tonno in Italia, ok? Cioè tutti i tonni praticamente li pescano l'acqua, quelli italiani ovviamente. E mi raccontava, insomma, un pochino del suo lavoro. E a un certo punto gli ho chiesto, ma tu online non hai mai pensato di vendere? E lui mi ha detto, no, 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 sei pazzo? No, no, io l'online niente. No, 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 l'online... Io faccio tutto vecchio stampo. Perché proprio, cioè sai, mi dà fastidio pensare a certe cose. Mi ha detto, ok, ma a livello di marketing come sei messo? Cioè ti promuove in qualche modo? No, 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 guarda, io proprio il marketing... Cioè proprio, guarda, chiedimi tutto, ma io il marketing non lo posso fare. Ok? Questo signore avrà avuto 55 anni, ok? E ci sta che abbia avuto una mentalità del genere. Io spero che voi, diciamo, tanti di voi hanno già fatto questo switch mentale, hanno capito l'importanza nel marketing. Ma tanti di voi, e qui dentro la maggior parte, tanti di voi sono in evoluzione, ovviamente grazie a me, ok? Ma alcuni di voi hanno ancora una serie di paradigmi, poi capiremo che cosa sono i paradigmi, per i quali, diciamo, non riescono ancora a fare quello switch, ok? Quindi a fare quel salto, ok? Che sarebbe, sarebbe, ripeto, la svolta della vostra vita. C'è un problema, ragazzi, ok? Che noi, quando ragioniamo, ragionare, quindi attivare il nostro cervello, implica un consumo energetico molto elevato, ok? Il cervello, cari giardinieri, funziona a C6, C6, H, no, C6, H12, O6, ok? Che è la formula del glucosio, ok? Il nostro cervello funziona con gli zuccheri, ok? E quando noi pensiamo che addirittura consumiamo più glucosio, diciamo, relativamente a quello che consumiamo magari quando facciamo un'attività fisica, ok? Quindi pensare costa fatica. Per questo motivo c'è una cosa, un fenomeno, chiamiamolo così, non è un fenomeno, ma c'è un qualcosa che guida la nostra vita, che sono, che si chiamano i bias cognitivi, che si scrive bias, ok? Ripeto, scrivetevi tutto, ragazzi, questa sera vi cambia la vita, i bias cognitivi, e si dice bias cognitivi. Quindi che succede? Lauro Begni, ciao Lauro. Francesco Califano dice, la base del successo. Ragazzi, non capisco per quale cazzo di motivo non mi vengono i commenti qua, qui, sul, sul, sullo smartphone. Amen. Che cosa sono? Sono delle scorciatoie mentali, ok? Che noi utilizziamo quotidianamente, per ogni cosa, per prendere decisioni, in modo da risparmiare energia. Ok? Dovete sapere che la maggior parte delle decisioni che noi prendiamo sono basate su scorciatoie mentali errate, ok? La maggior parte delle cose che noi pensiamo, decidiamo di fare, derivano da scorciatoie che vanno a prendere, che vanno a prendere come riferimento e a dare per vero, per veritiero, quello che noi abbiamo sentito dire dagli altri. Ci siete, ragazzi? Cioè, è drammatica come cosa, eh? Cioè, ora lo sapete, da oggi lo sapete, quindi cercate di, di, di evitare, di, di riflettere, ok? Quando voi prendete una decisione, riflettete, ma questa cosa qua, perché io sto dicendo così? Perché non sto facendo questa azione? Perché sto facendo questa azione? Perché veramente ci ho pensato, ci ho riflettuto? Oppure perché ho sempre sentito così, che si fa così, questa cosa va bene perché va bene alla maggioranza? O va bene perché effettivamente ci ho riflettuto e va bene a me? Ok? È drammatica come cosa. Pensate che, ad esempio, l'exit poll, quelli della politica, no? Tante volte sono sballati perché le persone non, 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 non dicono, non, non, non vi danno informazioni razionali su quello che realmente pensano, ma danno, lì si imbroglia pure perché a volte quando veniamo intervistati si imbrogliano, dicono delle cose che poi, perché si vergognano di dire altre. Prendiamo i sondaggi, ecco, più che l'exit poll della politica, che i sondaggi, sondaggi generici, no? Ci sono società di sondaggi che chiamano le persone e gli chiedono un parere rispetto relativamente a qualsiasi cosa, ok? Questi sondaggi che poi danno dei risultati, ok? Sono basati su pareri che le persone hanno preso non sulla loro effettiva razionalità, ma su quello che hanno sempre sentito dire intorno a loro. Marco Fabbro, come stai? Su quello che hanno sempre sentito dire intorno a loro. Ok? Perché non volendo in automatico, non è che lo scegliamo ragazzi, non è che diciamo no, ora se penso mi devo mangiare un cucchiaino di zucchero, ok? In automatico, diciamo, per preservare anche il nostro fisico, quindi per cercare di, ora ho visto che siamo scesi da 16 a 13, ecco, io mi incazzo perché questa roba qui è fondamentale, non so fondamentali le motoseghe, non so fondamentali i prati, ok? Cioè, in base a questo voi diventerete i più bravi del mondo a fare i prati, in base a questo voi diventerete i più bravi del mondo ad abbattere gli alberi, in base a questo voi diventerete i giardinieri migliori della vostra zona, in base a queste informazioni qua, tutto parte da qua, vi state capendo? Datemi un feedback, dai, troppo complesso, non state capendo un cazzo, ok, mi piace, mi appassiona, ditemi qualcosa ragazzi, mettete like, sicuramente, così più giardinieri vedono questa cosa, e datemi dei feedback, ok? Perché se vi piacciono questi argomenti, noi andremo a fondo, ok? Io ve ne sto parlando oggi perché ritengo che voi siate abbastanza maturi per iniziare a parlare di queste cose che vengono prima del marketing. Ciao Antonio Cristiano, che vengono prima del marketing, quindi i sondaggi sono falsi, sono falsi perché le persone rispondono in base a dei bias mentali, in base a delle scorciatoie che vanno ad attingere quello che hanno sempre sentito dire, ok, per non sforzarsi loro con il loro cervello, ok? Quello che hanno sempre sentito dire le persone, voi e anche io, ok, ripeto, ero nella vostra stessa barca prima di conoscere queste informazioni e quando io vi dico che le informazioni vi cambiano la vita vuol dire questo perché se voi se voi ora non foste qui con me, ok, senza sapere queste cose, avreste passato una vita da ignari, ok, sareste arrivati a 80, 90, spero che viviate fino a 100 anni, ok, ma avreste agito, ok, sempre in maniera incosciente rispetto a quello che sto per dirvi, è pazzesco ragazzi, è una cosa drammatica questa, e bisogna imparare a disattivarla e già conoscerla vi cambierà la vita, Santorelli, come stai? Ho fido la mia birrettina, non c'ho manco l'acqua ragazzi, ragazzi, voi agite, pensate, fate le vostre scelte quotidiane, in base all'ambiente in cui vivete, ok, voi non decidete perché state riflettendo sulle cose, se una cosa vi conviene o meno, riflettete molto spesso in base a quello che vi hanno insegnato i vostri genitori, tra gli 0 e 48 mesi noi siamo, avete visto i bambini, io non ho figli, magari tanti di voi hanno figli, no? E i bambini, come si dice, che evolvono, imparano in maniera incredibile, magari nel giro di una settimana passano da non saper dire nulla a fare dei discorsi, ok? Perché sono molto malleabili, ok? Sono molto, diciamo, influenzabili, plasmabili, ok? apprendono tutto, no? Quando noi veniamo al mondo siamo, abbiamo, non lo so, io non mi ricordo quando ero piccolo, ciao Luca Rossi, mi ricordo, ho delle memorie di quando ero molto piccolo, ma non tra gli 0 e 4 anni, e impariamo tutto, ok? Impariamo dai nostri genitori, impariamo dai nostri parenti, dagli amici dei nostri genitori, ok? E quel periodo là praticamente ci forma, ok? Ci, diciamo, ci marchia, ci marchia, a volte nel bene, a volte nel male, in maniera indelebile, se non sapete queste informazioni, ok? Indelebile. Ora, siccome qui siamo tutti imprenditori, che io sono un imprenditore, voi avete la partita IVA, siete degli imprenditori, mediamente, cioè, gli imprenditori in Italia, e parlo di imprenditori seri, ok? Non parlo di imprenditori come la maggior parte di noi hanno fatto o fanno, ok? Quindi avere la partita IVA per essere dipendenti di noi stessi, ok? La maggior parte dei nostri genitori non sono stati degli imprenditori di alto livello, ok? Quindi la nostra mentalità è stata forgiata un po' all'italiana, ok? Quindi con la mentalità prevalentemente del posto fisso, del lavoro sicuro, rischio zero, ok? Differentemente ad altri paesi, ok? Se prendiamo per esempio in comparazione l'America, che lì c'è l'iniziativa che hanno le persone e non c'entra nulla con quella che c'è qui in Italia. Siamo nati e siamo stati figli di genitori che perché voi avete sempre pensato e continuate a pensare che il marketing non serve a niente, ok? Perché voi siete figli di vostri genitori che probabilmente hanno vissuto gli anni 60, 70, 80, quando il prodotto e il servizio era nel centro, ok? Quindi quando bastava che tu, avendo un prodotto buono, un servizio buono, sbancavi, ok? Il passaparola, ragazzi, perché voi pensate che il passaparola sia la cosa migliore? Deriva proprio da quel periodo là e ve l'hanno inculcato in maniera indelebile, purtroppo per voi e purtroppo anche per me. Io poi ho studiato, ok? Ora voi lo sapete. Vi hanno inculcato a questa roba che il passaparola è la cosa migliore che tanto poi inizi piano piano, uno passa la parola all'altro e piano piano a macchia d'olio si diffonde, ok? I nostri figli, i nostri figli invece, cresceranno in un ambiente totalmente diverso. Quindi tra due, tre generazioni le persone avranno in mente altre cose, utilizzeranno dei bias mentali, quindi delle scorciatoie, per dire no, cazzo, cioè, non ascolteranno nemmeno uno che dirà non fare pubblicità, no, loro avranno nella loro mente. Vi state capendo? Vi piace questo argomento? Datemi un film, cazzo, dai, rispondete qualcosa, ragazzi, io sto qua a sbattermi per voi. Tanto sono stanco, faccio uno sforzo incredibile. Vi sta piacendo? Capite? Preferite parlare di motoseghe? rispondete, dai, qua 35 commenti, vediamo un po'. Sì, molto. Ok, ciao coach, preziosissima, ok, non me li fa vedere nemmeno l'aglio, non mi nemmeno... C'è la sua lingua felpata per la birra. Ok? Quindi, nelle prossime generazioni la gente avrà un'altra mentalità, avrà, diciamo, l'influenza, un'influenza diversa e quindi non ci saranno queste situazioni qua. Ok? L'ambiente che frequentate, ragazzi, quindi l'ambiente è sia quello dei parenti, dei genitori, dei parenti, quello che frequentate più facilmente, l'ho scritto in un post l'altro giorno, e se avete dei genitori in un certo modo, quelli vi toccano. Potete, in qualche modo, allontanarvi. Ok? Gli amici, invece, i colleghi, li potete, li potete allontanare. Ci sono tante teorie che partono, diciamo, tante teorie per chi studia, c'è un tante, una. Ok? C'è la teoria dell'isolamento. Ok? Chi studia mindset, o chi insegna mindset, insegna roba sul mindset, parla proprio in maniera specifica di isolamento. cioè, voi non dovete evitare di frequentare quelle persone che, ripetendovi le stronzate intorno, vi mettono nelle condizioni di attivare le vostre scorciatoie mentali e di decidere, non in base a quello che effettivamente vi conviene perché ci avete pensato, ma decidere in base a quello che vi dicono i vostri cazzo di colleghi, i vostri cazzo di amici. Quando io vi dico di levarvi da certi gruppi di Facebook, ok? Ve lo dico per questo, io non ho nulla contro quella gente lì, ok? Ma vedo che se voi leggete di continuo certi post, per voi quella è la normalità. Se voi vedete tutti i giorni gente che fa i post sulla capitozzatura, ok? Che scandalo la capitozzatura, a voi vi sembra normale, anzi, se passate da strada e vedete una capitozzatura, li fate la foto perché è normale, perché è normale che i vostri colleghi, che come i vostri colleghi voi dobbiate postare queste foto sulla capitozzatura. Ma io vi dico che non serve un cazzo questa roba qua. Perché voi dovete continuare a suonarvela, a cantarvela? Ok? Capite che non ha senso. Quando io vi dico quando io denigro o derido quelle persone, capite il senso? Perché io conosco queste cose che ora state conoscendo anche voi. Cioè a voi sembra normale quello, ma il normale è dovuto all'ambiente Cavazzano. Scusate Cavazzano, non ti posso fare le feste stasera, ma perché sto facendo un discorso molto serio. Da questo dipende il vostro successo nella vita personale e professionale. quindi quando voi ragazzi i giardinieri ignoranti, cioè la maggior parte, purtroppo è così, lo sappiamo, li dovete escludere, non li dovete ascoltare più, dovete evitare di frequentarli, vi dovete isolare, ok? Fisica a me, nel mondo fisico, ok? è sul web. Io vi prego dopo stasera, se condividete quello che dico io, di cancellarvi da tutti i gruppi inutili, perché vi fanno solo del male. Vi stanno influenzando in maniera malefica, che allora non sono malefici perché non lo fanno apposta, ma vi stanno rovinando la vita. Vi stanno rovinando la vita, perché voi avete l'influenza di persone, ok? che la pensano in maniera sbagliata, a parte che il 97-95% delle persone, delle altre persone, capisce molto poco. E lasciatevelo dire da uno che ha a che fare con i social, con tantissime persone, ok? Io, veramente, e anche con attività al pubblico, dove vedo tante persone, ed è impressionante come la maggior parte delle persone non capiscono niente, ragazzi, niente. Ok? Quindi voi vi state facendo influenzare dai vostri colleghi che non capiscono niente, da persone, da personaggi in gruppi Facebook che non capiscono niente, e utilizzate delle scorciatoie mentali per risolvere dei problemi, per dare delle risposte, per prendere delle decisioni nella vostra vita, in base a dei concetti assolutamente sbagliati, sui quali voi non avete riflettuto un secondo, li avete dati per buoni e per assodati. Io voglio bene i miei genitori, ragazzi, ma se avessi dovuto ascoltare, o se avessi dovuto assorbire e ragionare e prendere iniziative, fare iniziative e prendere delle decisioni in base a quello che mi avevano consigliato loro, sarei stato fottuto. Tanti di voi con i quali ho un rapporto in consulenza, ma c'è gente anche di 40 anni che è in società dell'azienda del giardinaggio col padre e si fa influenzare dal padre che ne ha 70. Io con tutto il bene che voglio a vostro padre, ma mi dite che cazzo ne capisce una persona di 70 anni? Ok? C'è già una persona media di 45 anni che già non capisce nulla di questa roba qui, del mondo attuale, del web, del marketing, e voi state ancora lì perché siete influenzati dalla mentalità di vostro padre, cioè voi attualmente state agendo e state vivendo la vostra vita in base alla mentalità di vostro padre che è nato nel 42. Vi sembra che chi è nato nel 42 possa avere una giusta percezione del mondo in cui si vive oggi che siamo nel 2022 e tra due o tre anni ci vedremo dal vivo con degli occhiali? Cioè non saremo qui a fare le dirette. Tra due o tre anni ragazzi Gianni Cervo ha cambiato nome, tu eri John Cervo e cambiato nome. Tra due o tre anni ragazzi noi saremo in una stanza ognuno da casa nostra il metaverso parlo di metaverso poi farò una diretta su questo. Ok? E voi vi fate influenzare nei ragionamenti dai vostri genitori che sono nati nel 38, nel 41, nel 47? State sbagliando e da oggi lo sapete. C'è un altro problema ora che nessuno si offende mi raccomando. Uno dei vostri problemi e tanti giardinieri non sono laureati. Ok? Ora non non dico che la laurea sia se io tornassi indietro non studierei non farei non farei l'università. Ve lo dico lo dico sempre. Altra cosa importante le più importanti compagnie del mondo non assumono più andando a valutare un profilo se è alla laurea o meno. Ok? Tipo Google non gliene frega un cazzo vi fa 25 colloqui psicologici che capisce bene tutto che capisce tutto di voi perfettamente e vi assume non gliene frega niente della laurea. Ok? Quindi io non sto dicendo che voi non avete la laurea la maggior parte perché è così e quindi non valete. Anzi sto dicendo esattamente il contrario ma molto spesso chi ha studiato e ha fatto la laurea si è laureato è andato fuori a studiare. Ok? È andato fuori a studiare a 18 anni ha preso e è andato via di casa ok? E ha smesso di ascoltare tutti i giorni le informazioni sbagliate dei genitori. Ok? In alcuni casi magari si è recato in grandi città dove ha iniziato a frequentare ambienti cosmopoliti. Ok? innanzitutto persone di altre regioni persone di altre estrazioni spengo whatsapp se no ragazzi persone di altre estrazioni ok? Non dico più alte o più basse magari anche più basse ma anche persone di altre nazioni ok? Mentalità totalmente diverse ok? questo vi apre la mente io vedo tanti miei amici che non sono andati a farlo hanno fatto l'università il loco quindi hanno studiato ok? per dire l'università non c'entra un cazzo in questo discorso e che in tanti casi che è andato a fare l'università l'ha fatta fuori fuori dalla sua cioè è andato via di casa ok? Vedo che tanti miei amici che sono rimasti in in loco quindi a casa quindi hanno fatto sono rimasti a casa con i genitori hanno fatto male l'università fino a 32 anni ok? e sono li voglio bene non li voglio insultare ma sono parecchio più chiusi mentalmente ok? cioè il problema è che quando noi rimaniamo sempre nello stesso circuito con i nostri genitori che la pensano come 70 anni fa con i nostri amici che non capiscono niente siamo sempre nel paesiello ok? magari voi l'estate andate al mare sempre nello stesso posto a 100 chilometri perché tanto ci sono gli amici sempre là non fate mai un cazzo di viaggio all'estero o quando andate all'estero andate al villaggio al villaggio turistico dove è Piero di italiani cioè praticamente vi muovete dalla Puglia per andare a sentir parlare pugliese alle Maldive per stare a contatto sempre con la stessa cazzo di mentalità anche se prendete un aereo e fate 5.000 chilometri volando è un problema vi dovete isolare dovete evitare tutte queste situazioni io quando facevo l'università ho fatto l'Erasmus ok? l'Erasmus è un progetto dell'università che penso ora non ci sia più ti permetteva di studiare 6 mesi 8 mesi 9 mesi un anno fuori ok? e io sono stato in Spagna sono stato d'accordo ma l'ho già raccontato in Andalusia l'ho raccontato già un po' di volte potevo scegliere varie destinazioni e praticamente ho scelto l'unica destinazione dove non avevo un collega ok? perché sennò partivo e andavo a rifare in territorio straniero quello che facevo a Pisa ok? sono arrivato a Cordoba a 2000 km di distanza da Pisa non sapevo manco che holà significasse ciao non so perché non avevo studiato niente ciao Luca Stefani sono arrivato sono arrivato a Cordoba in Spagna che non sapevo niente senza un amico senza niente già questo ti mette nelle condizioni di resettarti mentalmente ok? ti permette di tirar fuori delle capacità delle energie di iniziare a ragionare in maniera differente impressionante la prima cosa che fai quando sei all'estero cerchi degli italiani cerchi di unirti a persone come te e io per i primi 2-3 mesi frequentavo italiani ovviamente con una mentalità più aperta quindi tutta gente che è andata a studiare fuori ok? che comunque però erano sempre italiani ragazzi ok? quindi dopo 2-3 mesi non è che l'ho tagliati però ho iniziato a frequentare gente del luogo spagnoli equadoregni ok? gente del Guatemala gente del Marocco gente della Svezia ok? questa cosa mi ha portato a ad avere un ambiente indefinito ok? cioè in questo modo l'ambiente che io frequentavo non poteva influenzarmi perché era talmente variegato che io o perlomeno ero influenzato in tantissime maniere diverse io ringrazierò sempre questa fase della mia vita che ho chi anzi l'amico che mi ha consigliato di farlo perché io ero scettico non lo volevo fare avevo una fidanzata no Mattia che è un'altra e che ho lasciato prima di partire e io non volevo andare perché mi preoccupavo di questa cosa ho preso la decisione l'ho lasciata e sono partito ringrazierò sempre questa cosa qui che mi ha cambiato totalmente la percezione e se oggi sono a parlarvi di queste cose ora molto probabilmente è dovuto a questo fatto qui ok? quindi torno al discorso l'ambiente che frequentate determina la vostra vita nel bene e nel male molto probabilmente l'ambiente in cui voi siete non è un ambiente buono per l'imprenditoria ok? io non sto mettendo il dubbio che i vostri genitori siano delle brave persone ok? ma non è detto che voi dobbiate stimare professionalmente e seguire minuziosamente quello che vi dicono i vostri genitori cioè voi potete volere bene i vostri genitori li potete amare ma non è detto che li dobbiate stimare da un punto di vista professionale se vostro padre fa il dipendente in banca non vi può dire a voi che avete un'azienda cosa dovete fare perché lui fa il dipendente non può influenzare le vostre scelte su attenzione non fare nulla mi raccomando è meglio un soldo oggi che 20 domani e con questo non vi sto dicendo di fare i passi più lunghi della gamba mi state seguendo ragazzi io non sto vedendo non sto ok vedo che commentate Tessarin a 13 anni era in collegio di agraria a Padova Cavarzano non vorrei mica dire che odiare le capitozzature è sbagliato Cavarzano no ma trovo assolutamente una stronzata che ogni giorno sui gruppi facebook di giardinieri i giardinieri postino le capitozzature la trovo una merita stronzata perché è inutile che voi andiate a scandalizzarvi tra di voi cazzo le capitozzature sono sbagliate ok ma cazzo fate qualcosa per dirlo ai vostri clienti non dovete dire ai vostri colleghi che lo sanno tutti tranne i più caproni tanto i caproni rimangono sempre caproni i caproni non è che se vedono un post su un gruppo e di domani non lo fanno no il caprone non gliene frega un cazzo taglia l'abbero la base perché risparmia carica tutto con la gru perché c'è il camion con la gru e vi ruba il lavoro perché i vostri clienti non sanno che le capitozzature non si fanno quindi questo a me mi fa girare a scatole Valerio Fazzari per fortuna le sto già acquistando le cose che stai dicendo grazie per la conferma grande Fazzari Valerio Fazzari tra l'altro ragazzi c'è a prescindere dai miei e i vostri genitori che magari ci hanno influenzato in maniera sbagliata noi a prescindere viviamo in un paese di merda ok ma non che voglio voglio diciamo parlare male dell'Italia a livello di tasse quella roba lì no io parlo male dell'Italia a livello di mentalità imprenditoriale ok in Italia ci sono delle persone geniali gli italiani avendo vissuto all'estero sono tra i migliori che ci sono ok i più svegli battuta sempre pronta persone smart in grado di cavarsene in ogni cosa ok ma da un punto di vista aziendale e con questo diciamo vado a parlare anche di apertura al marketing siamo fottuti ok e diciamo quindi a prescindere dalla differenza dei nostri genitori e dall'ambiente in cui noi siamo nati ok comunque siamo più o meno siamo tutti nati in Italia qui non mi pare che in questa diretta ci siano persone straniere delle estere straniere ok e in Italia c'è un male diffuso che è la diffidenza verso il prossimo la diffidenza verso il prossimo è vero gli italiani sono sempre i più furbi gli italiani sono sempre più furbi no e tendono sempre a fregare tutti quando vanno all'estero tipo italiani contro beh tipo io mi ricordo che i belgi erano proprio i più più fessacchiotti cioè soprattutto nel nord Europa tu proprio cioè li fregavi come magari tu vai nel nord Africa sono ancora più furbi di noi e tendono a fregarti di più in Italia c'è un frega frega generale ok tutti che ti vogliono inculare perdonatemi il termine ma è così questa cosa ci porta a essere diffidenti verso tutto e verso tutti ma la diffidenza ha un problema comporta un problema che essendo diffidenti noi tendiamo ad escludere tantissime cose perché abbiamo paura di essere fregati ok ok siamo abbiamo e viviamo costantemente condizionati dalla paura di essere fregati e siccome abbiamo paura di essere fregati ripudiamo ripudiamo tantissime cose non le facciamo non ci fidiamo di persone che magari ci cambierebbero la vita perché abbiamo paura di essere fregati lo sapete che vi dico che io odio questo e mi impegno a ragionare questa roba qui tipica italiana tipica italiana ok in altri paesi in altri paesi non c'è non c'è questa cosa le persone si fidano e io dico cazzo mi voglio fidare di tutti fino a prova contraria perché se non mi fidassi di tutti o quasi non esageriamo non è che sono un pollo da spennare che vado in giro ciao Caterina se io non mi fossi fidato io ho comprato ora il discorso viene anche su di me e non lo faccio per vendervi la roba non me ne frega un cazzo lo faccio per farvi capire io una volta ho comprato un corso da 3.000 euro da un formatore senza mai averci comprato niente ok 3.000 euro in contanti ok non rateizzato 3.000 bonifico ok e ho percepito che mi poteva servire mi ha cambiato la vita poi ho rischiato c'è gente c'è gente in mezzo a voi anche che si spaventa se deve spendere 250 euro per un corso mio o anche di un altro con la garanzia soddisfatto rimborsato uno se c'è scritto soddisfatto rimborsato cosa pensi che una volta che mi dai soldi io me li tenga se non ti piace c'è gente che mi dice ok il pacchetto ora abbiamo venduto dei pacchetti di consulenza 1.400 euro a delle persone che tremavano perché pensavano di essere magari il pensiero lì se sono arrivati a quel punto era anche il fatto magari lo compro e non mi serve ok ma quando poi uno parla con un mio consulente dice guarda tranquillo che chi ha fatto questa roba qui ha avuto dei risultati eccezionali tutti timorosi io vi dico se spendete 1.400 euro con me 2.000 euro con un altro 1.000 euro con un altro ancora per un attrezzo per un corso per un qualcosa che magari non avete la certezza assoluta qualora non vada bene siete rovinati cioè non è che cade il mondo cioè non è che uno è rovinato c'è tanta gente tra di voi e guardate che oramai sono due anni e più di 100 giardinieri ok hanno comprato corsi hanno fatto consulenze hanno fatto i siti e tutto quanto con l'agricoccio ma ci sono ci sono delle persone storiche che mi raccontano i miei consulenti che ogni lancio che è stato fatto si sono informate sui corsi dicendo che erano in mezzo alla merda che non trovavano lavoro non sapevano come fare e quindi avevano pochi soldi avevano paura di spendere e hanno continuato un mese dopo l'altro un mese dopo l'altro un mese dopo l'altro e alcuni di questi qui hanno chiuso l'azienda e hanno cambiato lavoro quindi se c'è qualcosa che in questo momento non vi soddisfa la vostra azienda non va bene volete crescere ci state provando ma rimanete sempre allo stesso punto mi dite che cazzo sono 2000 euro per non fare un tentativo anche a rischio di essere fregati che cosa sono 2000 euro se poi va bene anche se la percentuale che vada bene è il 30% qual è il problema? tutta questa roba qua cazzo è l'influenza che vi arriva dall'ambiente che vi circonda cioè per un giardiniere no fino a poco tempo fa era impensabile spendere 500 euro per un'ora di consulenza era impensabile perché se voi lo andate a raccontare ai vostri amici ai vostri colleghi che hanno sempre due motoseghe still in mano tu sei pazzo spendere questi soldi qua tu comprati una motosega invece di fare la consulenza l'ambiente vi fotte l'ambiente vi rovina vi dovete isolare io vi consiglio vivamente che non perché ha avuto delle diciamo delle discordie con certa gente con certi gruppi ma io lo dico per il vostro bene non per il mio vi dovreste vi dovrete o fatelo cancellatevi da certi gruppi che vi rovinano la vita se i vostri genitori vi insistono su certi concetti ok andateci meno possibile perché vi rovinano la vita vi stanno mettendo nelle condizioni di avere dei pensieri in testa che vi stanno autosabotando ok l'autosabotaggio è una delle problematiche principali per le persone che vogliono raggiungere obiettivi elevati ok in tantissimi ci autosabotiamo quotidianamente anche io ragazzi cioè io non è che parlo e sono esente da queste cose io pure sono cresciuto tra i 0 e 48 mesi in un certo ambiente poi ho avuto la fortuna di potermi distaccare da questo ambiente ma certa roba rimane sempre qua ed è sempre pronta a farvi prendere la decisione sbagliata una volta che sapete queste informazioni voi avrete un filtro in più nel prendere la decisione e quindi penserete già da questa sera ma sto ragionando per come pensano gli altri o sto ragionando veramente per quello che torna meglio a me ok e ora vi dico un'altra cosa questa roba qui ok è diciamo si chiamano paradigmi ok e sono incrostati nella nostra mente non nel cervello nella mente la mente non è il cervello il cervello sta qui la mente non si sa dove sia ok sono paradigmi errati o false credenze che sono incagliate ok incrostate avete presente una cosa incrostata che dovete stare lì a grattare con lo scalpello o dovete mettere l'acido ok il mindset ok i discorsi sul mindset sono alla base di tutto ok e ci sono proprio tanti tanti formatori riguardo al mindset e questi formatori qua sapete che fanno insegnano anche la riprogrammazione mentale ok io l'ho fatta alcune volte nella mia vita in maniera light ok non l'ho mai studiata bene ho dei conosco decenni di riprogrammazione mentale ma c'è gente ok che passa mesi magari stacca dal lavoro si isola e passa mesi a riprogrammare la mente per levare tutti quei concetti del cazzo di cui abbiamo parlato prima c'è gente che si mette a scrivere pur essendo destra si mette a scrivere con la sinistra quaderni e quaderni e quaderni con una frase che deve farsi entrare in mente ok o delle frasi che vanno a eliminare i paradigmi errati che hanno in testa io ho visto persone cambiare da così a così perché hanno riprogrammato la loro mente ok e ci sono persone che hanno ottenuto successi strepitosi grazie alla riprogrammazione mentale ok ora voi mi prenderete per pazzo ma questo è questo è così funziona il mondo alla vostra evoluzione grazie a tutti